Nel corso di un'operazione finalizzata al contrasto allo spaccio di stupefacenti a Modica, la polizia trae in arresto quattro giovani, tutti di età compresa fra i 18 e i 21 anni. L'operazione intera è stata ostavolta una zona periferica situata tra Cavadispiche e Frigentini, quest'ultimo luogo di residenza dei quattro. Gli agenti, durante un servizio di perlustrazione, le hanno infatti notate, appartate in una piazzola semi-illuminata di accento ad una pizzeria. Ad un tratto un tizio è sceso da un'auto e si è avvicinata ai quattro, ricevendo un involucro per poi risalire sul mezzo. A questo punto sono intervenuti gli agenti, mentre l'automobilista, capita l'antifona, ha subito gettato fuori dal finestrino il pacchetto. Si è così passata alle perquisizioni ed è stata rinvenuta a marijuana del peso di oltre un chilo. Si è quindi continuato con le perquisizioni domiciliari dei quattro giovani, dove state rinvenute, oltre alle buste in plastica, per confezionare la droga, anche bilancini di precisione e banconote di vario taglio nascoste all'interno di un barattone di Nutella e in parte nella biancheria intima dentro un cassetto. L'arresto dei quattro si aggiunge ai diversi arresti già operati dal commissario di Modica nel corso dell'anno, una recrudescenza al fenomeno che comincia a preoccupare non poco la comunità locale.